I scacchi sono questi che giocano solo intelligenti, perché di sé è intelligente perché gioca a scacchi e se gioca ancora di più, mette ancora l'intelligente a fare la guerra. Perché ha preso la città Troia? Perché con scacchi. Mamma mia, ho vinto. I believe it's gonna come one day, it's how day. It's also searching for me. But I know it's gonna take time. I'm gonna wait for you. Tornerà, tornerà. Cioè te lo senti? Aspetta, aspetta, tanto torna perché noi donne forse soprattutto abbiamo questo senso che ci guida. In realtà non c'è uno che va, è uno che resta. C'è un rincorrersi, è continuo. Fatti non costa a vivere come brutti, ma per seguire virtù e conoscenza. E questo non mi ricordo anche da quanto è andata faceva, 70 anni fa. E questo non mi ricordo è un po' di più. i miei figli. Angela! 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 I want you to let you know that I still love you. No matter what happened to Ross, you will always be in my heart. Perché poi l'Odissea parla di questi due che in qualche modo si vogliono rivedere, solo che questo resta sempre incasinato in mille cose. Racconta quello che dovrebbe essere l'accoglienza, un fatto assolutamente naturale, di pura bellezza. Questa è l'immagine del mondo, guarda. Questa è l'immagine del mondo. Sì, però... Come si chiama tua sorella? Aspa. Ciao Aspa. Alba. Aspa. Alba. Io ho un nome... Eh? Nome nessuno. Nessuno. Luca. Avevito. 18-25 anni Mosa. Anna. Vivovovovovovovovovovovovovovovovovovovfvovovvvvd",